Io ho una domanda, ma per raggiungere il server devi fare Direct Connection e metterlo in direzione? Devi, ora, se vedi c'è un buco, inserisci il doppio click Ok Che cos'è questo? Io prendo tutto Fatto... Vediamo che cos'è? Patata al forno? Buona Ammazzata la famiglia, c'è la tufì Dove siete? Merda! Oh mamma! No Noi nelle fortezze andiamo E di porci ammazziamo Con la nederite, a casa torniamo Uuuuh, sium Ah! Come si apre l'inventario di questa merda? Ok Io come vi raggiungo? Sto da solo, ho un video e vedo qualcuno Cosa super la montagna? Com'è che... io mi sono scordato tutto Romano Com'è che si apriva il menù dei cazzi per craftare la roba ragazzi? Ah ok, ci sono E... Oh, il tizio Ah, e si... Da lavoro si fa con... Lassopra Hai quattro Come hai messo questi qua così esatto? Però il legno No, fa parte di un mondo totalmente... no, in realtà non è un mondo diverso da Twitch, è un mondo molto simile secondo me Perché... fa... vabbè, non... fa teatro Secondo me... ma che cazzo... Nice Erbe cibo 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 Vedete, to Easy Sono il maestro delle caverne Sono il maestro delle caverne Ah! Ah! Ok, ok C'ho un letto nel nether, chi è che l'ha messo? Ah... vabbè, per dormire Su, guarda, non mi prendere per il culo, Surry, non mi prendere per il culo Surry Forse mi sono perso Oh, diamante! Oh! Trovato! Oddio, oddio! Oddio, ragazzi è finita, addio, muoio! Come mori! Morto! Morto! No, no, no! Morto! No! Ah, la fanata è su! Oddio, no! Allora... Labbra rosse cazzo in culo! Partito. Un ruot, è via Vontaggi dinamici e peschi Un free booter che va in alto Non si ferma proprio mai con il montaggio del Capogato Vooooooooder Volter!